Salve a tutti e ben ritrovati come sempre dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy 7 Ever Crisis perché cominciato il crossover mi sono un attimo preso la briga di fare i contenuti in solo. Quelli in coppo poi li faremo in live come sempre, ci organizzeremo tra di noi, però i contenuti in solo ovviamente li porto sul canale come ho fatto sempre. Ci sono due battaglie, lo stage 13 e 14 che comunque non sono così difficoltosi per un account day one che ha avuto modo comunque di poter accumulare diverse risorse. Sarebbe stato ancora più facile se al mio team che vi farò vedere avessi aggiunto la nuova arma collab di Cloud che me lo avrebbe reso ancora più potente, però il team che vi farò vedere è comunque un team strutturato per questa battaglia e quindi penso che comunque sia per chi ha la possibilità di poterlo copiare o poter fare qualcosa di simile possa tranquillamente gestirlo anche con ovviamente overboost più bassi e team magari leggermente diverso. Il team che vado a portare è estremamente più alto come power level, infatti ovviamente tralasciando il fatto che i personaggi sono tutti a livello 80 ma il fatto che comunque il mio team abbia un 325.000 come power sta già ad indicare il fatto che stiamo praticamente andando oltre. Il Ratalos come boss fight è molto bella, a me sinceramente piace perché in questo crossover hanno dato diciamo una funzionalità sia agli attaccanti fisici che quelli magici, quindi diciamo che si può utilizzare chiunque fondamentalmente ed è una cosa molto buona. È ovvio che avere il dps tuono sicuramente aiuta perché giustamente la debolezza dà un grandissimo vantaggio però nonostante tutto anche chi ha personaggi non elementali ma comunque sia li vuole sfruttare potrà comunque farlo. Questa diciamo è una panoramica generale del setup che possiedo ma ora lo andiamo a vedere nel dettaglio anche perché poi vi allegherò direttamente entrambe le battaglie non credo neanche di commentarle perché la boss fight del Ratalos è di per sé molto semplice, il Ratalos arriva alla barra stabilità che deve essere distrutta tramite gli attacchi magici e poi invece tramite gli attacchi fisici dobbiamo attaccare il boss nel momento in cui viene buttato giù perché una volta che la sua stability perché appunto il suo charge, il suo overcharge boost e praticamente la stabilità viene fatta crollare il nemico cade quindi perde l'equilibrio un po' come succede su Monster Hunter e praticamente può essere attaccato per riduzione di difese fisiche e magiche che ci consentono fondamentalmente di essere molto più forti. Infatti se andiamo a vedere il boss abbiamo praticamente una resistenza, scusatemi, una debolezza al tuono e una resistenza al fuoco, tante resistenze però non per quanto riguarda attacco magico, attacco fisico, difesa magica e difesa fisica quindi molto molto buona questa cosa e poi la descrizione parla per l'appunto che il boss utilizza potenti attacchi di tipo fuoco magiche e la sua force gauge stability può essere cancellata utilizzando abilità magiche. Una volta cancellata tutta quanta la sua gauge praticamente triggeriamo il data purge quindi una sorta di castigo che per l'appunto viene inflitto al nemico dove praticamente abbiamo la possibilità di poter infliggere molti più danni in quanto verrà attribuita un malus di difesa fisica e di difesa magica. Poi abbiamo comunque una resistenza al poison e al fire che ovviamente sono efficaci contro questo nemico perché per chi non conoscesse Monster Hunter e per chi non conoscesse la creatura in questione essendo comunque una viverna sputa le fiamme con il fuoco ma possiede comunque un attacco con la coda che anche nel gioco originale infligge poison quindi hanno pensato appunto al fatto di prevenire il poison qualora ne foste contagiati e ovviamente i danni di tipo magico fuoco proprio perché il boss in questione sputa il fuoco. Partiamo ovviamente da Sephiroth che in questo caso rappresenta il DPS magico ovviamente non ho tanti HP perché non me ne serviranno tanti ho un fortissimo potere magico di ben 4000 e oltre porto ovviamente la Kuja's Blade in questo caso perché posso ridurre il suo attacco magico posso ridurre l'attacco magico dell'avversario e quindi nel mentre tolgo stabilità posso anche debuffare l'avversario e questa è una cosa che non si deve sottovalutare. Ho portato un Lightning Breach anche per aiutare Cloud dal punto di vista offensivo dato che Sephiroth sarà colui che utilizzerà solo abilità magiche ovviamente summon di Shiva perché l'elemento ghiaccio è ciò che mi rende il re praticamente di questo combattimento e tutte sub weapon che mi incrementano attacco magico fisico, boost ghiaccio e boost HP per avere diciamo un personaggio abbastanza completo. Le materie ovviamente tutte che vanno ad aumentare le statistiche quindi non consideratele diciamo messe lì con una logica semplicemente il Thunder Breach che ho messo così giusto per fare un po' il fighetto e dare comunque una debolezza a tuono all'avversario. Mett che invece è praticamente ormai imprescindibile almeno per ora vedremo cosa daranno ad Eris in questo crossover ma per il momento Mett è imprescindibile. Nuova skin da dottore, Prime Number per delle cure e Amulet Tribute come skill secondario con la Core Defender per aumentare la difesa magica. Diciamo che qui il Rathalos è molto più forte magicamente che fisicamente quindi consiglio comunque di avere qualcuno che possa alzare le difese magiche. Per chi ha la Barrage Sword di Cloud può usare la Barrage Sword di Cloud ma ovviamente ormai Cloud proprio in casi estremi per chi pullerà l'arma crossover ha già la sua arma secondaria definitiva perché Cloud essendo DPS fisico almeno per la maggior parte del suo kit riceve praticamente l'arma secondaria perfetta, letteralmente perfetta. Boost in attacco fisico, riduzione della difesa, refined ability con HP che assolutamente predilige in un qualsiasi modo quindi veramente secondo me quest'arma crossover per Cloud potrebbe veramente rappresentare l'arma secondaria definitiva. Mentre invece io ancora non avendo la pullata sto utilizzando Mett come difesa magica quindi cure e difese magiche un ruolo che comunque gli si addice appieno buone difese, buon healing anche una discreta quantità di attacco magico di 2100 ma un defeat messo così giusto per accontentare le masse ma ovviamente niente di superlativo sub weapon tutte quante che aumentano healing e fire resistance perché ovviamente vi ricordo che il nostro avversario effettua danni di tipo fuoco quindi va bene la difesa magica ma se abbiamo anche una riduzione elementale è anche meglio Cloud che invece come potete notare è anche lui praticamente dps tuono totalmente costruito come all'inizio del gioco Summon ovviamente di Ramu mentre invece per Mett mi sono dimenticato di dire che ho preferito mettere appunto la sua limit per aumentare difesa fisica e difesa magica nell'eventualità dovessimo avere problemi ma per quanto riguarda Cloud ovviamente Buster Sword messa come secondaria per sfruttare un po' le refined ma come vi dicevo prima nel momento in cui si riuscisse a pullare l'arma crossover la Buster Sword diventerebbe un'ottima sub weapon per tutti in generale e quindi non dovrebbe essere relegata ad arma secondaria solo per sfruttarne le refined ovviamente Murasame come arma principale tutte materie messe per incrementare le mie statistiche e un Tandara Blow giusto per velocizzare un pochettino il combattimento e poi come sub weapon praticamente ho tutto boost elettrico e poi il Seaside Collar di Red che mi aumenta gli HP la Brodaxis Sword di Matt che mi aumenta l'attacco fisico e il tuono e la Shock Buster di Glenn che mi aumenta invece attacco magico fisico e boost tuono quindi diciamo che riesco ad avere delle statistiche molto 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 valide detto questo entriamo in combattimento va bene facciamo un'unica registrazione facciamo un'unica roba tutta insieme giusto per farvi vedere anche l'animazione del Ratalos che è comunque bellissima è straordinaria e poi praticamente togliamo l'auto togliamo tutto inizialmente abbiamo questo attacco che ci stunna per un attimo ma poi praticamente possiamo tranquillamente diciamo iniziare vedete a difenderci con Matt che mi aumenta la difesa magica ecco qui gli attacchi fisici un pochettino da temere qua abbiamo gli attacchi tuono noi invece andiamo tranquillamente con le cure come potete notare ovviamente possiamo subire senza veramente nessun problema e nel momento in cui vedete buttate giù praticamente la stabilità del nostro boss abbiamo praticamente il data purge quindi vedete questa sorta di punizione no? e poi Cloud come potete notare in questo caso riesce praticamente a fare di tutto e di più noi qui invece ora aumentiamo la nostra difesa magica perché lui ora sta continuando nel momento in cui si rialza caricherà appunto l'attacco ecco non ho switchato in tempo però vabbè Running Fire Breath che è l'attacco classico del nostro Rathalos però come potete notare abbiamo alzato la difesa magica al top e quindi non c'è problema lo stun sì lo stun scusatemi le riduzioni rimangono attive sul boss non pensavo in realtà ecco e qui mi ha praticamente colpito con gli artigli e mi ha dato il poison quindi abbiamo subito il poison ma come potete notare una volta che il boss subisce ecco è bella la schermata finale come fine della caccia no? di Monster Hunter e ovviamente in questo caso potete notare che proprio la quest è andata proprio liscia come l'olio abbiamo stancato i danni ci siamo curati non c'è stato grosso problema sì potremmo utilizzare Healing as Una per curare il poison però se avete un team che riesce a riasciare in questa maniera non ce n'è bisogno spostiamoci invece adesso sul secondo combattimento ovvero l'M2 in questo caso quindi la caccia diciamo di medio valore livello 2 dove anche qui praticamente cominciamo con questo stun e anche il magic attack up di del nostro Rathalos che effettivamente parlando però vedete qua abbassa anche la difesa fisica quindi diciamo che effettivamente si può pensare anche al gestire in modo diverso qui con Sefirot ovviamente abbassiamo il tutto perché con Sefirot comunque possiamo abbassare abbastanza easy non ho effettivamente come aumentare la difesa fisica perché se avessi usato il siringone di Matt avrei avuto entrambe le possibilità quindi non c'è problema ok qui non ho alzato la difesa magica ma non dovremmo avere problemi vedete abbiamo una buona resistenza in generale specialmente Matt che ha la resistenza al fuoco molto molto valida bello il fatto che abbiamo il debuff di fuoco praticamente io qui invece con con Sefirot vado di attacco magico per abbassare il più possibile e qui qui stiamo rischiando effettivamente mi sta debuffando di un bel po' infatti qui ora con Cloud dobbiamo necessariamente usciare con Sefirot ovviamente abbassiamo un po' perché ha guadagnato fin troppo attacco magico questo nostro avversario e mettete magari una difesa fisica per chi effettivamente perché mi sta abbassando terribilmente la difesa fisica è vero che lui comunque fa molti più attacchi magici quindi siamo praticamente tranquilli non c'è problema poi abbiamo caricato anche la summon doppia summon quindi ormai anche questo combattimento è andato però non immaginavo bassasse così tanto la difesa fisica il kit parlava comunque di attacchi magici eccetera eccetera però non immaginavo abbassasse così tanto la difesa fisica quindi nell'eventualità adesso lo sapete e potete tranquillamente gestire la situazione certo se avete un team come quello che sto utilizzando io non c'è problema in nessun modo perché riuscirete a vincere ancora prima però per le difficoltà successive dobbiamo tenere in mente questa cosa quindi sicuramente la siringona di Matt sarà quasi indispensabile in questa battaglia però vedremo anche che cosa daranno ad Eris io sono convinto che Eris prenderà una bella arma da supporto anche per renderla diciamo competitiva nei confronti di Matt quindi vedremo effettivamente che cosa le daranno detto ciò non c'è altro da dire per il momento quindi questi sono gli eventi che al momento coinvolgono la prima parte del crossover io vi aspetto ovviamente in live per fare le coop e parlare pullare e tutto quello che volete insieme io vi ringrazio al solito per aver visto il video e ci becchiamo alla prossima bye bye ciao